Non ci sono ancora le dati ufficiali della Supercoppa. Ma com'è possibile, però? In realtà c'è un problema molto grosso, che è la rabbia... C'è qualcuno che c'è un ritorno, ragazzi, non so chi. Ti provo a mutare, Simo, vediamo se sei tu. Sì, sei tu, sei esattamente tu. Quindi non so perché è il ritorno, cioè si sente proprio il ritorno, l'eco. Dicevo, la Supercoppa in questo momento, un grosso punto del interrogativo Ale, perché l'Arabia, diciamo così, non è contentissima di Lazio e Fiorentina e quindi ha provato, prima l'ha spostata da inizio gennaio a fine gennaio, poi ha chiesto di giocarla a febbraio. Aspetta e ti interrompo, non ho capito però in italiano che significa non è contento di Lazio e Fiorentina. Bravissimo, non è una domanda sciocca, molto giusta. L'Arabia non è contenta di Lazio e Fiorentina da un punto di vista di appeal. Cioè in questo momento l'Arabia dice, per me è una competizione che non ha molto appeal, perché Lazio e Fiorentina non sono molto conosciute, non mi danno molto rientro a livello di immagine. Per questo motivo hanno provato a rinviarla il più possibile. Prima era prevista il 6 gennaio, 6-8 gennaio, l'hanno spostata a fine gennaio. Dopo averla spostata a fine gennaio hanno chiesto di giocarla a febbraio. Napoli e Inter hanno detto di no, hanno detto no, abbiamo la Champions a febbraio e non la facciamo. E in questo momento non sono ancora state fissate le date. Sicuramente capisci bene che ci troviamo a un mese dalla competizione. Oggi ho visto Gabe, arrivo, sta sotto Gabe che sta per entrare. Capisci bene che manca un mese all'inizio della competizione. Facciamo finta che i tifosi volessero andare. In questo momento i tifosi non possono fare i biglietti perché non sanno effettivamente quando devono andare. Ma anche gli addetti ai lavori che ci devono andare non possono ancora fare i biglietti. Perché giustamente non si sta a nulla. E capirai bene, come capiamo tutti, che prenotare un viaggio con 6, 7, 8 mesi d'anticipo ha dei costi. Farlo nel mese stesso ha altri costi. E questa roba qui è parecchia una mancanza di rispetto. Fossi stato io la Lega Calcio, avrei detto non ti preoccupare, facciamo la Supercoppa a Roma. Ce la giochiamo a Roma, in Italia, dove volete. È vero che non arriverò mai ai 20 milioni che l'Arabia mi dava. Perché chi partecipa alla Supercoppa, quindi Lazio, Napoli, Roma e Fiorentina, avranno, scusate, Lazio, Napoli, Fiorentina e Lazio, no, è Inter, avranno 6 milioni tutti quanti, quindi 6 per 4, 24, più qualche milione premio. Quindi pensate un po' che loro hanno un grande cachet per andare in Arabia a giocare la Supercoppa. Ma il trattamento è questo, io la giocherò in Italia. Quale sarebbe il pro? Intanto fai bottino in Italia. Cioè se tu apri San Siro o apri l'Olimpico o apri lo stadio che ti pare, riempi lo stadio e fai degli incassi. Non raggiungi i 20-25 milioni che l'Arabia, va benissimo. Però con gli sponsor e con l'incasso un po' di soldi li puoi fare. Capisci? Quindi in tutto questo vai a salvaguardare i tifosi, perché capisci bene che se fai la Supercoppa italiana in Italia i tifosi la possono venire a vedere, in Arabia non ci va nessuno, già non ci va nessuno a prescindere perché è lontano. Pensa un po' che oggi tu non hai ancora dato le date della Supercoppa, è una vergogna assoluta. Una vergogna assoluta. Facciamo entrare. Gabe? Direttamente dall'aeroporto ragazzi, buonasera. Grazie. Ci vediamo, ci si vede domani solo in Italia ragazzi, domani mattina vostra. Quanto c'hai di volo? Quanti sono? 12? No, sai, faccio scala a Parigi, se no diretto sarebbe 8 e mezzo. Complessive quindi? 12, 10-12 quindi, sì. Gabe, diciamo così, prima di, su questa roba della Supercoppa che ne pensi visto che ne abbiamo parlato? Penso, non saprei veramente che dire, nel senso perché non so, non mi piace l'idea di farla in Arabia perché per la Supercoppa italiana per me andrebbe fatta all'Olimpico, però capisco che porta soldi e sponsor, però non ti saprei dare un giudizio totale. Non mi piace tanto, però non conosco l'argomento, quindi non voglio dare giudizi affrettati. Ale, Simo, su quello che abbiamo detto. Nico, non so chi vuole dire qualcosa sulla Supercoppa o come? Io ho soltanto capito che era stata rinviata, poi non ho sentito altro, per quello lì non si avrà una che c'è a dire a parte questo, perché dicevano che Lazio e Fiorentina non erano conosciute da laggiù, così. Io ho letto sì, per fare strabole. Io non so come funziona, ma non è una cosa pure dei contratti, Fla, cioè se tu accetti una cosa. Certo, io penso, vabbè, ma secondo te, secondo te, Ale, hai ragione, agli arabi di pagare una penale. Però almeno che lo dicessero. Cioè, non vuoi più per i tuoi motivi, allora uno lo organizza in un'altra maniera. Il senso, che poi scusa, il senso di, se loro pensano, non lo so, magari non sai manco tu la risposta, magari non abbiamo insieme. Se la rabbia pensa che la Lazio e la Fiorentina non abbiano a PIL, se tu la rinvii a febbraio, che cosa è cambiato? Comunque a PIL non ce l'hanno? Cioè, tu stai rinviando un problema solamente? Sì, sì, in pratica, in questo momento si sta rinviando il problema. Eh, questo, cioè, non è che a febbraio Lazio e Fiorentina sono Real Madrid e Barcellona, cioè che cambia. In questo momento si sta rinviando il problema, per non affrontarlo. Non so come, secondo me, si giocherà a fine gennaio e festa finita. Però, ragazzi, il fatto che le date non sono state ufficializzate, fa riflettere. No, è certo. Cioè, ad oggi non ci sono ancora le date della Supercoppa. I club vogliono giocarla a metà gennaio. Loro hanno detto, giochiamo alla fine gennaio. Inizialmente era prevista per inizio gennaio. Capite che... Certo. Ma anche perché se poi iniziano le coppie, come le incastri? No, no, ma infatti la Supercoppa si deve giocare a gennaio per forza. Beh, c'è un tempo... Puoi andare oltre, anche perché che giochi? La Supercoppa dell'anno prima, giugno dell'anno... Cioè, poi c'è l'europeo. Quindi, c'è la Supercoppa si deve giocare a gennaio. Ora, vediamo chi ha il compito di decidere se decide. Io non... Sì, Valerio, anche la Spagna va in Arabia. Ma evidentemente, non so se ha questi problemi o meno, magari non ce li ha, perché le quattro spagnole piacciono di più. Sai quali erano le quattro spagnole, Flavio, per caso? Onestamente no, lo sapete voi, non voglio fare brutte figure. Ok. Loro magari si ritrovano Juve, Milan, Napoli e Inter, si ritrovano Lazio, Napoli, Fiorentina e Inter. Capisco che per loro l'Inter ha un certo tipo di appeal, il Napoli parliamone, secondo loro Lazio e Fiorentina di meno. Poi è normale, loro in Arabia e la Spagna sicuramente sporteranno Barcellona e Real Madrid. Eccole, Flavio. Sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid o Sasuna? Capisci bene. A parte lo Sasuna. 10 e 1 di maggio. Capisci bene che al di là dello Sasuna c'è un po' di roba. Certo. Certo, certo, Tommaso. Cioè, la Lazio c'ha meno tifosi anche della Fiorentina, eh. Il bacino di utenza della Lazio è inferiore a quello della Fiorentina, ragazzi. Il Napoli è pieno di tifosi perché il territorio napoletano è molto ampio. E mentre, al contrario della Toscana, se esci fuori dai confini della città metropolitana di Firenze, ci sono, correggetemi se sbaglio, ci sono tante antipatie, a Napoli, ragazzi, oltre qualche rivalità che c'è, sì, Salerno, però a Napoli si sono tutti, cioè, in Campania si sono tutti quasi napoletani. A Firenze, chi sta a Pisa non si sente Fiorentino. Chi sta a Siena non si sente Fiorentino. Chi sta a Viareggio non si sente Fiorentino. Viareggio, per quanto ci ha fatto i vacanti, posso dire che è un copo di milanisti e giuventini, sicuro, garantito al limone. Ecco, anche Tommaso ce lo dice. Quindi è diverso, proprio da questo è diverso. Questo è diverso. Fermo restando che Napoli, quali abitanti fa la città di Napoli? Ti posso dire qua, almeno quasi il doppio di Firenze, già quando stavo in Italia. Dico, controlla, controlla. Abitanti Napoli. Io sono Fiorentino, pure sono di Prato. Napoli qua, aspetta, però qua mi dice, nel 2019 mi dice 3 milioni. Cazzo, è tre volte e mezzo Firenze, perché Firenze è proprio meno di mezzo milione. No, 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 aspetta, Firenze non è mezzo milione, molto di meno. Era, era, non lo so. 380, 350. Ah, quindi è diminuita, Nicco, perché quando sono partito io dieci anni fa era circa 450 mila abitanti, quindi è diminuita Firenze rispetto a quando sono partito. Ah, boh, no, non lo so, io mi nordavo così. No, no, c'hai ragione, c'hai ragione. No, no, c'hai ragione. Sto controllando anch'io ora, quindi. Comunque qua a Napoli nel 2019 mi dice 3 milioni, poi ora non so quanti. Sì, no, vabbè, se non sono 2-8 cambia poco. È anche vero che Firenze come Firenze fa 300 mila abitanti, se non mi sbaglio. Però è anche vero che Scandicci, Sesto, Bagnarripoli, Campi sono Firenze, ma sono comuni che non risultano come Firenze, ma sono città metropolitane Firenze. Cioè Scandicci sono quasi 70 mila abitanti, mi sbaglio? Sesto sono 50 mila all'incirca. Sesto sono 50 mila, Bagnarripoli non sono 50 mila, sono di meno, però... Cioè, se unisci anche Campi, se unisci anche Fiesole, anche Fiesole è un bel... Le caldine che ho le Siesole. Prima ho letto ora 989 mila. Ma, sei lì da trovere. Cosa? Abitanti ora a Napoli, 989 mila, 2,92. Qualche? Va bene, va bene. Era solo per dire che... Era per dire che, insomma, il bacino d'utenza di Napoli è più alto di quella della Firenze. Detto questo, tornando a noi, sì, anche Mugello, Valdarro, se non nomino qualcuno l'ha nominato anche. Lo stesso Empoli è provincia di Firenze, però è lontano. L'Empolese non si sente fiorentino, ragazzi. No, è gobo. L'Empolese è vero, ragazzi. Gabe.